Amici di Realteam TV, oggi parliamo con un ospite un pochino particolare e parliamo soprattutto di Covid, come tutti, ormai questa cosa ci ha accerchiato, ci sta rovinando proprio l'esistenza un pochino a tutto. Abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Antonio Luce, psicologo, esperto del linguaggio del corpo, docente di 25 questure, esperto del linguaggio della menzogna. Salutiamo anche Ilaria di Almax che è qui con noi. Saluto a tutti, anche da parte di Alessia, come sempre, Almax Channel. Darei subito la parola al dottor Antonio Luce perché penso che avrà da diossi un parecchio pochino. A te la parola Antonio. Bene, intanto sono contento di essere vostro ospite oggi e di trattare un argomento così importante che è la seconda ondata del Covid. Ovviamente i medici e gli idrologi spiegheranno le varie curve, quello che bisogna fare e quant'altro. Io invece mi occupo da psicologo, oggi mi vedete non come consulente del linguaggio del corpo ma come psicologo, di quali sono le problematiche emotive che si stanno presentando proprio a ridosso della seconda ondata del Covid. Allora, intanto cerchiamo di capire alcuni punti perché tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo subito l'effetto del lockdown. Allora, partiamo dalle cose più semplici. Immaginate delle persone che soffrono di paura di ammalarsi, che cosa hanno passato con il Covid. Non parliamo degli ipocondriaci, ma anche le persone che hanno paura di morire, hanno paura di infettarsi, di non va in bagno a casa altruno, va solo nel proprio bagno. Immaginate tutte queste patologie come con il Covid sono esplose, quindi la paura della morte, la paura della pandemia e così lì. Poi c'è stato e ha sofferto per la reclusione. Sappiamo che il numero dei divorzi è aumentato. Perché? Perché normalmente noi passiamo otto ore a letto, otto ore lavoriamo, due ore in macchina, il tempo che passiamo col coniuse, col conviviente è minimo. In cui passiamo 24 ore su 24, ecco che la situazione diventa molto pesante. Poi ci sono le persone come me che sono single e quindi sono rimasti tre mesi da soli in casa e quindi anche la persona che da molti sposati veniva invidiata si è riprovata a passare non un giorno, non due giorni, non una settimana, non due settimane, ma diverse settimane con il discorso della solitudine, quindi confrontarsi con ore e ore in solitudine. Siccome siamo animali sociali, sicuramente l'aperiparti, abbiamo coniato dei nuovi termini, quindi l'aperitivo fatto su Skype, l'aperiskype o altre situazioni del genere, ha sicuramente surrogato quella che però poi aveva un bisogno della realtà. e quindi c'è chi è stato male man mano che arrivavano le restrizioni, quindi che sentiva come tra un po' ti arrestano, tra un po' ti arrestano e va in carcere. C'è chi invece era fiducioso e poi un giorno con il decreto è stato detto da oggi non puoi più uscire di casa. C'è chi invece è stato male per le limitazioni, perché non posso andare a fare la spesa a sei chilometri e devo rimanere all'interno dei miei piccoli comuni e hanno sofferto tutti questi piccoli problemi. Uno che abita a Milano poteva andare da Milano a nord a Milano a sud, uno che abita in un piccolo paesino non poteva andare a un paesino vicino che avevano 100 chilometri. Quindi questo ha sicuramente creato una serie di scompensi perché tranne la persona che è stata in carcere nessuno di noi era nessuna esperienza di vita che ha mai posto davanti a una realtà di gente. Una delle cose assurde del lockdown è che nessuno, non c'è nessun tipo di esperienza, tranne una persona che è stata rapita o una persona che è stata incarcerata, nessun altro può vivere queste piccole situazioni. Allora alcuni mi hanno chiesto a suo tempo sui vari forum, sulle chat, ho fatto diversi, come tutti i miei colleghi, ma come mai ho stato male mia sorella, mio marito, il mio compagno? No. E qua si va sempre a ritroso, essendo uno psicologo che lavora molto sui traumi infantili, alcune persone che erano state messe all'epoca all'asilo in punizione da soli in una stanza, lo hanno fatto sia le suore che le non suore, perché molti dicono le suore mi hanno rovinato. All'epoca, prima del metodo Montessori, credo che noi abbiamo tutti più di 40 anni, e c'erano le bacchettate sulle mani, nelle persone, negli insegnanti equilibrati, c'era lo stare in piedi dietro alla lavagna come faceva il cattivo e quando uno era un po' più piccolo ti mettevano in una stanza da sola. Quindi, come mai alcune persone hanno subito maggiormente l'isolamento perché qualcuno di loro nelle punizioni scolastiche veniva lasciato da solo in una stanza a riflettere sull'errore che aveva fatto. era un aspetto educativo di una volta, molto diffuso, che durante il lockdown in cui siamo stati costretti a rimanere in casa, ecco che si è innescata questa forma di claustrofobia particolare, non so dei termini che possiamo capire tutti, non dei termini tecnici. Quindi il fatto di non poter uscire ha fatto rivivere a livello inconscio quella punizione infantile di quando l'insegnante, la maestra, la sua, il prete, quello che fosse l'educatore di quel momento, oltre anche i genitori, non è che sono per forza persone strane, ma la cosa assurda è che fino a quel giorno del lockdown questa problematica non si era mai ripresentata. E questo è l'elemento. C'è persone che sono state sempre libere, non hanno mai vissuto. gente che mi diceva, ma io lavoro in banca, vado nel cavo, delle volte ci siamo ritrovati, un'ora chiusi nel cavo, come mai non sono stato male, rimanere chiusi in un cavo, uno ha paura che finisca l'ossigeno. Il lockdown è perché è stata una cosa protratta, è come l'essere incarcerato e dire, ma quanto mi spetta, mi hanno dato un mese, un anno, tre anni, non si sa. Quando finirà, non si sa. Quindi l'incertezza è stato il secondo fattore di moltiplicazione. Quindi proprio, ora, siccome so che siete molto attenti, soprattutto facendo questo lavoro sul web, se avete qualche domanda che vi è stata fatta da amici, se vi posso rispondere, pensate a qualche domanda specifica così, è sempre bello. È una domanda un po' diretta e più, diciamo, interessata, perché faccio parte un po' dei claustrofobici e di quelli che soffrono magari in modo anche un po' più pesante, perché in fatalità tre anni fa sono state chiuse in un montacarichi e quindi diciamo che ho peggiorato la situazione da quella volta lì. E quindi, sostanzialmente, prima tolleravo, dopo il montacarichi no, dopo il lockdown magari un po' meno, però il fatto di portare la mascherina, che comunque è in forma di rispetto per chi sta meno bene. Però per chi soffre di claustrofobia, questo l'ho sentito anche nelle Iene che hanno mandato il video di una ragazza di 18 anni, quindi prendo parte anche per lei più che per me. Io riesco a stare a casa, lei invece lavorava proprio se è bene o male, sarebbe meglio se uscissimo, insomma posso fare a meno, va bene. Però lei che proprio deve uscire per lavoro, stare con la persona e con la mascherina, più di tanto non riesce a stare perché questo velo che per quanto agli altri possa non dare fastidio, messo sul viso, comprime e comunque per chi è claustrofobico sembra assurdo, non ti credono, tutti ti prendono per, però alla fine ti dà un enorme fastidio. Io ho più di 10-15 minuti e effettivamente ho visto che poi bene o male non riesco a stare, quindi non so altre persone come stiano a livello di claustrofobia. C'è qualche spiegazione anche a questo oppure no? Allora in genere parliamo sempre delle cose pregresse prima del lockdown perché il lockdown ci ha messo davanti è una realtà nuova. Però a me è capitata una situazione similare perché ho un pochino di esperienza in quanto lavorando delle volte con dei gruppi come gli infermieri è capitato che una persona a causa di una separazione di mille motivi mi dava fastidio in sala operatoria portare la mascherina perché le mascherine chirurgiche vengono utilizzate quotidianamente da chi fa un certo punto di lavoro. Allora ecco l'unica spiegazione che almeno in questo momento ti posso dare è che delle categorie che indossavano normalmente la mascherina oppure anche semplicemente le mascherine quelle che utilizzano il carrozziere che spruzza l'inchiostro che è respirato e chimico. Ci sono tutta una serie di persone, uomini e donne che nel proprio lavoro utilizzano le mascherine. E mi è capitato in passato che alcune persone non riuscivano a indossare la mascherina a causa di uno shock pregresso. Quindi in genere ci sono due, parliamo di macro categorie, persone che già da piccoli come nel tuo caso soffrono di una claustrofobia e quindi c'è questo trauma che ha lasciato un solto bello profondo altre persone che invece fino a 40 anni stanno bene poi si separano e diventano, comincia un po' a dare fastidio gli ambienti affollati, evitano la metropolitana, evitano gli autobus molto pieni, evitano le conferenze, vanno al cinema e si mettono vicino alla porta. Invece la persona claustrofobica si mette all'angolo, chiede proprio quando va a comprare il biglietto, ora si può fare online una volta, infatti mi ricordo che fece una serata di sensibilizzazione agli esercenti, se neanche la semplice ragazza che sta via a dare i biglietti, se uno dice mi dai i biglietti vicino alla porta, uno non deve chiedere perché, perché davanti a tutti mi costituisce a dire soffro di claustrofobia, la persona non lo fa per fare un danno, ovviamente, perché ti vuole dare i costi indiore, non è che quelli vicino alla porta costano meno, ma se tu sai questo problema non me lo chiedi, esempio. Quindi la claustrofobia nasce per la mancanza della via di fuga, delle volte la via di fuga è psicologica, una delle cose molto diffuse sia nel mondo maschile che femminile, e io mi voglio separare ma non mi posso separare perché c'è il mutuo, perché il coniuge è geloso e quindi nel momento in cui la claustrofobia diventa psicologica mi fanno mobbing in ufficio, io vorrei scappare da un ufficio che è visto come un ambiente negativo di sofferenza e rimango lì. Allora poi vado ad un ascensore e mi manca l'aria, ma questa mancanza d'aria perché si chiama fobia o paura? Perché se siamo in trenne all'ascensore, prima del covid, che nessuno ha la fame d'aria perché l'aria c'è, ma la percepisco io. Quindi è una traslazione di una claustrofobia mentale. Quindi sono sposato con una persona da cui vorrei separarmi e per mille motivi non lo posso fare. Sto in un ambiente di lavoro da cui vorrei scappare e non lo posso fare. Oggi genitori che hanno gli adolescenti che comandano in casa, altra cosa noi con le banchettate, la catechista si dicevano che eri stato cattivo, ti punivano perché la catechista mi ha detto questo, non l'insegnante, non si diceva l'insegnante, è altro che storie. Quindi oggi dove ci troviamo nelle famiglie dove gli adolescenti decidono, gli adolescenti fanno quello che vogliono, ci troviamo, che le volte mi sono trovato ultimamente con delle madri che vivono questa claustrofobia perché in casa la figlia non fa niente, oppure invita le persone a casa e lei diceva casa mia, mi trovo estranei a tutti i giorni e io non ho più il mio spazio, quando gli adolescenti diventano padroni di casa e tu vorresti scappare, non potendo scappare, ritorna la claustrofobia. Ma un impatto emotivo negativo tipo separazioni, vite, cose, divorzi, si possono aver influito anche in modo peggiore sulle persone che già soffrivano di claustrofobia oppure no? Assolutamente sì perché il bicchiere si è metà, lo riempi nell'infanzia, poi le cose brutte della vita lo fanno riempire tutto e quindi traborda e di conseguenza trabordando arriva il tilt. Tutte le problematiche, secondo anche la psicosomatica moderna, nascono come una colla bicomponente, cioè una parte è un'altra. Una parte è il trauma infantile, un'altra parte è quello che oggi sta vivendo male e quindi diventa questo tipo di situazione. Ora per tornare, prendo questo esempio, all'argomento di oggi, tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza negativa col covid. Quindi chi l'ha avuta come ansia di premonizione, cioè chissà cosa succederà, chi è stato male nel durante, chi ha avuto la sindrome della capanna, cioè dopo finito il lockdown non riusciva più a uscire di casa. Quindi, ad esempio, le persone che sono state costrette ad andare a lavorare non potevano avere la sindrome della capanna perché anche rischiando sono andate a lavorare. Gente che è rimasta in casa, ha fatto 45 giorni di lockdown secco, cioè non può uscire a prendere solo le medicine perché la spesa ce la faceva portare a casa, o aveva le riserve perché aveva capito che c'era una serie di situazioni, la sindrome della capanna non riusciva a uscire di casa. Quindi ognuno ha avuto un'esperienza del genere. Chi non ha risolto la sindrome della capanna perché è pensionato o sta comunque, ha possibilità di stare a casa, come può risolvere il problema oggi nonostante siano passati dei mesi? Bisogna rivolgersi allo psicologo che deve cercare di capire qual è l'origine di questo, in genere quando uno ha paura di uscire è perché fuori c'è il lupo cattivo, quindi come che è stato in casa il claustrofobico aveva il punitore in casa, quindi qualcuno mi ha punito e mi ha rinchiuso, qui invece è l'esatto contrario, il pericolo è fuori quindi quando abbiamo avuto una madre o un padre, una nonna molto apprensiva quando vai fuori a una certa ora, ci sono i maniaci, una serie di situazioni Maurizio vedo che annuisci o leggo il linguaggio del corpo, quindi so che sei attentissimo però non hai qualche domanda anche tu. Mi preoccupa il tempo che abbiamo a disposizione per questa... Lo so, lo so, siamo in direttore d'arrivo. Posso fare un'ultima domanda, poi chiudiamo magari questi due minuti così? Volevo solo chiedere una cosa, siccome vedo molte persone che si sentono bene quando prendono il ruolo di generali, perché ho visto anche nel lockdown che molti spiavano tra virgolette vicino perché si sentivano in questo ruolo diciamo forse più importanti, non ho capito, perché io forse mi sono sempre fatto i fatti miei non ho mai... però ho visto tantissime persone che sono diventate diciamo degli sceriffi nel senso che loro stanno bene nel femminile e nel maschile in questo ruolo posso cercare di capire perché uno si sente più qualificato a fare lo sceriffo di un altro? Allora, il punto primo è che le persone frustrate devono indossare un distintivo per sentirsi qualcuno in questo caso il lockdown dicendo denunce il tuo vicino o fai una segnalazione e ti fa acquistire quindi secondo me sono persone frustrate che in questo modo dimostrano la loro autorità che non hanno e questo è il primo punto. Per chiudere, proprio perché mi interessa rispondere alla domanda di Maurizio in chiusura, io dico sempre a tutte le persone che stanno male, che hanno paura che il grosso l'abbiamo già superato, cioè peggio del primo lockdown non ci può capitare quindi bisogna pensare che fino a marzo, aprile ci sarà questa situazione di restrizione ma questa volta noi siamo preparati, io un hashtag che sto lanciando sui miei social è lockdown, questa volta mi farò trovare preparato e tu? Perché molte persone si coprono gli occhi dicendo speriamo che passi brett, invece non è così, è la preparazione che ci farà trovare la soluzione e voglio veramente lasciarvi con la famosa frase di Darwin, non è l'animale più forte che vince ma quello che si sa adattare. Ok, con questa cosa ragazzi salutiamo il dottor Luce Grazie. Sono Ilaria, è stata una bellissima chiacchierata, importantissima e ci sentiremo presto per il proseguo, sperando che parleremo di tutte altre cose. Ciao. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao. Grazie.